Si è conclusa nella giornata di mercoledì 21 agosto la consegna dei 38 frigoriferi destinati ai detenuti del carcere cittadino di Via Spalato. Una vera e propria gara di solidarietà che ha coinvolto un centinaio di persone tra comuni, cittadini, personalità del mondo politico ed economico senza distinzione di colore, appartenenza e fede. Nenesimo modello Friuli, marchio positivo di esportazione. Sì, è vero, altri garanti di altri comuni mi hanno chiesto di essere informati in dettaglio su come abbiamo messo in piedi questa iniziativa e come l'abbiamo sviluppata. Credo che sia un risultato gratificante, vuol dire che è un'operazione non soltanto andata bene ma può essere di stimolo anche per altre realtà. Purtroppo le carceri in Italia sono in una situazione veramente difficile e quindi benvengano tutte le iniziative che possono creare situazioni migliori. E poi mi consenta di sottolineare, ancora una volta il Friuli è un laboratorio perché siete riusciti a creare un qualcosa che non ha distinzioni politiche o ideologie. Ma questa è un'altra cosa molto interessante. Fra i sottoscrittori, un centinaio circa, ci sono anche rappresentanti di forze politiche dell'opposizione e devo dire che è una cosa che personalmente mi fa molto piacere perché nel momento dell'insediamento ho precisato che io volevo essere garante del resto come funzionale al termine, garante di tutti, quindi di maggioranza opposizione. Non ho nessun tipo di legame con una o con l'altra forza politica e credo che questo messaggio sia stato colto e l'occasione della raccolta fondi lo ha dimostrato.